Ciao Ruggero, grazie per la domanda, mi sono divertita, è stato molto bello, noi parliamo sempre di questo personaggio che mi piace tanto, che abbiamo ormai creato per il film scorso e che adesso stiamo continuando a portare avanti. Perciò è stato molto divertente, ci abbiamo lavorato tanto anche, però adesso è diventato tutto molto naturale. Quando diciamo che ci divertiamo, come abbiamo detto adesso anche alla Letizia, ma perché te senti male? Ma c'è anche qualcosa che la prima volta? Pensa se incontri, che ne so, Tom Cruise, che ieri si danno i pugnetti con Beckham. Ah vabbè, purtroppo. Ma Tom, guarda, se non ci forza, quando finisce, noi ci diamo grande, ci daremo grandi cose, quindi la citeremo grande. Ma Tom, guarda. Come dicevo, citando anche la tua domanda, noi ci divertiamo moltissimo, perché stiamo facendo una commedia, Antonio l'ha spiegato bene. E' bello avere anche un umore alto al mattino. Ora non è che siamo dei deficienti, nel senso che noi poi facciamo il nostro lavoro, abbiamo le nostre dieci ore di set e in più c'è il trucco, i tempi del trucco, la preparazione, tutte le cose che bisogna fare prima, o allenarsi a fare qualcosa se serve. Dunque c'è un bel lavoro, è un lavoro che molti non lo sanno, naturalmente, anche Alessandra Valentina, le prime volte che sono preso il set e pensavano che una scena si girasse con un ciacco e poi si andasse a casa. Invece sono moltissime ore di lavoro che si fanno naturalmente seguendo un copione, seguendo una sceneggiatura, le indicazioni del regista, attendo attenti che tutti i reparti siano a posto. E' una macchina molto complicata, molto complessa, molto bella e ben organizzata. Dunque è un lavoro che richiede tantissima concentrazione, nel colore che stiamo sempre a ridere. Dobbiamo far sorridere gli altri, dobbiamo portare avanti le scene così come se ne abbiamo scritte, oppure con una volta dell'improvvisazione, una cosa che capita, una benedizione che capita di tanto in tanto. Noi però stiamo bene tra noi e ho l'onore e la fortuna di poterlo fare insieme ad Antonio e insieme anche al cast, naturalmente, che abbiamo dovuto avere con noi. Questa è la che risponde alla domanda che veniva da noi. Allora in giro abbiamo ancora un momento di giro.